La presentazione stampa oggi in triennale per la nuova edizione, l'edizione 2022 del Festival delle Serie, una produzione Dude, tra l'altro insomma alla sua quarta edizione, nata nel 2018 ovviamente con lo stop per il Covid. Sarà il weekend del 24 e 25 settembre, ma partiamo insomma dalle novità, cosa ci dobbiamo attendere? Veramente è un'edizione col botto, adesso abbiamo svelato il programma quindi possiamo dirlo, abbiamo la nostra headliner Nora Felder che è music supervisor dei Stranger Things con una case che tutti conosciamo ma non mi voglio dilungare qui, sicuramente è venita al festival. Abbiamo una grandissima novità che riguarda la giornata del venerdì, che è una giornata tutta dedicata alla formazione, che abbiamo fatto diciamo collaborando con scuole e istituti che ruotano intorno alla nostra industria e che gratuitamente metteranno a disposizione una serie di masterclass che poi insieme a una partnership con MyMovies verranno rese disponibili poi anche per chi è fuori Milano per tutto il mese successivo al festival. Poi sicuramente tantissime altre novità, quest'anno non è più una novità perché è già il secondo anno però la domenica sera sarà la sera di premiazione dei Serial Awards, quindi il premio è dedicato alla serialità italiana, su questo di più non posso dire, se non che quest'anno alla conduzione, affiancare Edoardo Ferrario che già l'anno scorso aveva condotto la cerimonia ci sarà Aurora Leone dei De Giacal, quindi sarà sicuramente all'insegna del divertimento. Ovviamente ci piacerebbe capire chi sono i favoriti ma non è possibile farlo. Non è possibile anche se quest'anno gli annunceremo comunque pre-cerimonia anche per questioni che non sto molto a nascondere rispetto al fatto che lunedì avremo altro probabilmente da discutere sui nostri media. Il festival comunque che ovviamente attira il grande pubblico perché le serie si sa fanno mai parte del nostro palinsesto quotidiano, ma non solo perché tanti brand che hanno partecipato e che vogliono sponsorizzare questa manifestazione, perché? Perché il contenuto entra di diritto nella comunicazione. Sì, diciamo per fortuna, siamo sempre più appetibili ai brand, la nostra poi è una manifestazione gratuita quindi sono anche coloro che la rendono sostenibile, sicuramente in alcuni casi si tratta di un tentativo di approcciare questo mondo che come dici tu è ormai all'interno delle nostre vite e che abbraccia un target molto ampio, in altri casi invece è un rapporto già più consolidato che magari il brand ha con questa tipologia di contenuti. Di per certo la nostra modalità è quella di integrare il più possibile i contenuti di brand o comunque le necessità del brand all'interno di quelli che sono i contenuti del fest che comunque ha un contenuto editoriale importante. Per esempio con Iliad abbiamo fatto un'attività integrata a quelli che sono proprio i contenuti del festival, quindi sul main stage avremo due talk dedicati che parleranno della serialità televisiva all'interno del tono di comunicazione di Iliad. Quindi parleremo della trasparenza, degli effetti speciali, di come vengono utilizzati e quant'altro. Con eBay abbiamo aperto lo store del nostro merchandising all'interno di eBay e poi abbiamo una serie di altre attività che sono i nostri main partner. Con Plasmon ci occuperemo di far vivere lo stage all'esterno che è lo stage dei più piccoli, quindi è lo stage kids del sabato. Poi ci sono un sacco di modalità che ogni anno sperimentiamo, proviamo e che sicuramente sono anche destinate a crescere nei prossimi anni. Concludendo, uno sguardo a FESTA, cioè la vostra unit che si occupa di eventi. Gli eventi sono ripartiti, quali le sorprese e qual è il lavoro in serbo? Diciamo che una cosa che forse noi non diciamo mai ma che dovremmo dire di più è che FESTA è una piattaforma di comunicazione che dura tutto l'anno e questo è il vero obiettivo quest'anno di FESTA, che sarà aggiungere eventi durante l'anno e farlo vivere anche in contesti che magari sono fuori Milano e non per forza Milano centrici, come ogni tanto pecchiamo effettivamente noi organizzatori di eventi. E poi FESTA è comunque per Diud, è l'inizio di un bellissimo percorso proprio a contatto con la città di Milano e questo ci tengo a dirlo perché sono poi altri progetti che anche Diud ha in serbo proprio di creazione, di rapporto con l'offerta culturale milanese e anche formativa. Grazie a tutti!